Ciao cari amici del canale Tao Power Life, bentrovati. Oggi pratichiamo un mudra molto utile. Si chiama Suniya Mudra, il mudra dei cieli. Che cos'è il mudra? Il mudra è una posizione, un gesto delle mani e delle dita che consente una chiusura, una chiusura energetica, ossia un accumulo di energia nel nostro corpo che serve a procurre dei benefici per l'organismo, quindi a seconda della posizione. Il suniya mudra o mudra dei cieli è cosiddetto perché utilizza, e lo vedremo, il dito medio che corrisponde all'elemento spazio etere. Secondo gli antichi era il cancello che consente di portare al cielo attraverso il processo di purificazione. questo mudra a che cosa serve? Serve a curare, a ridurre tutti i problemi dell'udito, quindi dell'orecchio, del mal d'orecchio. Molto spesso ai problemi di orecchio dobbiamo dire che sono collegati anche aspetti psicologici. Uno di quelli è quella, è la tendenza delle persone a non voler più ascoltare o non essere in grado di ascoltare certe cose. Ma è importante anche dire che è vero che laddove l'udito viene meno si ha anche la possibilità di non ascoltare diciamo situazioni più sgradevoli, spiacevoli, però si perdono anche tante cose belle, perché la vita è fatta di situazioni spiacevoli e situazioni più o meno belle. Quindi sottrarsi la capacità di ascoltare quelle spiacevoli ti permette, ti porta anche a perdere quelle pelle. Questo è l'elemento psicologico molto spesso associato ai problemi del dito. Ma veniamo ora al pudra. Come pudra molto semplice andiamo a piegare il dito medio alla base e poi chiudiamo questo piegamento del dito attraverso il pollice. Le altre dita sono stese, se non riusciamo a stenderle utilizziamo un piano e le manteniamo soprattutto in caso di problemi di udito per diversi minuti al giorno, più volte al giorno questa posizione. Quindi dito medio, chiudiamo con il pollice e manteniamo così stese le altre dita. Suniya mudra stiamo un po' di tempo insieme, lo pratichiamo insieme e chiudiamo gli occhi, manteniamo la posizione, respiriamo lentamente non premiamo in maniera eccessiva il nostro muda, respiriamo, ci rilassiamo. possiamo anche cambiare la posizione, l'importante è mantenere il sigillo, lo possiamo fare in tante circostanze, quando camminiamo, quando vediamo la televisione, quando stiamo ascoltando la radio, la musica. bene, questo è Suniya mudra, il mudra dei ceri, per la salute dei problemi alle nostre orecchie. e finisce qui la nostra pratica sui mudra, spero che vi sia piaciuta, se il video vi è piaciuto condividetelo con i vostri contatti, se non lo avete fatto iscrivetevi al canale Tao Power Life, cliccate sulla campanella per poter essere, ricevere la notifica di tutti i nostri video nuovi. Ciao! Ciao!